Ciao a tutti, sono Nicoletta Pollini dell'allevamento Cocles. Questa è una femmina di quasi due anni, si chiama Cocles Wellcome Mira, detta Emi, e oggi ha appena vinto il B.O.B., quindi il migliore della sua razza. Lei ha appunto quasi due anni ed è già campionessa italiana, ha fatto il campionato italiano dalla classe intermedia, e quindi è stato molto veloce ed ora la espongo in classe campioni. Emi ha un carattere molto dolce, ma le piace tantissimo giocare, infatti non disdegna di correre libera nel prato, rincorrere una pallina o un giochino che suona, queste cose la fanno impazzire. Le piace molto giocare anche con i suoi compagni dell'allevamento, per questo posso dire che lo Yorkie è un cane molto adatto alle persone dinamiche, che hanno voglia di passeggiare, di muoversi e di vivere all'aria aperta, ed è un cane che non ama troppo poltrire sul divano.